Allora adesso vi faccio vedere con l'aiuto di Carmen e vi consiglio di essere sempre in due come si fa ad asciugare la barba perché la barba di questi cani è importante e deve essere bella dritta e asciugata bene bene per proprio per non sapere poi di cane bagnato quindi vi fate aiutare vedete che Carmen tiene puntato il phon e io vado a spazzolare nella direzione proprio della barba in modo che vedete deve assumere proprio la barba deve essere bella dritta 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 guardate che bella che viene deve essere spazzolato fino a quando proprio la barba non è asciutta stessa cosa vi fate aiutare anche per il ciuffo per la frangia davanti che deve essere bella tirata davanti qua ci vogliono proprio due minuti due secondi anzi guardate già asciutta perfetto